1, 2, 3, 4 Come le corsa contro vento Tazza solamente tu Gridi ciò che sei Senza voce resta Luce scura, luna piena Ti guardi intorno ma sei sempre tu Sola mai E solo certo ne uscirà L'ultimo pezzo Che mostra tutto Non è quell'arma semplice Se lotti con te stesso E' un album veramente ben fatto Pensato in maniera intelligente Creativa E ben realizzato Pulsante Premuto per errore Sentire Andrea Perrotta Che ringrazio perché mi ha mandato il suo cd Irresistibili distanze A questo lavoro dal titolo Irresistibili distanze Che è stato da lui definito Un sogno fuori contesto Questo è un disco che è veramente progressivo Ossia fonde una serie di stili Dal metal rock al pop rock degli anni 80 Ci sono dei richiami classici Per esempio Velvet 21 Ha secondo me Le forti diminiscenze Floydiane Quindi è un disco Che sicuramente si ispira Ma con un Diciamo un vestito Innovativo Vi faccio i complimenti ad Andrea E a tutti i musicisti Che hanno fatto parte di questo progetto Che è? Sato È nostro Nicolai Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.